Ciao a tutti e benvenuti su Archidee! Prima di tutto vi ringrazio moltissimo per l'apprezzamento che avete dimostrato nel tutorial precedente e per questo ho deciso di sbrigarmi per realizzare subito quest'altro tutorial in cui vedremo come creare questo collè plastron con la papas clay la parte decorata che vedete colorata è quella fatta con la tecnica Mokumegane del tutorial precedente quindi se siete qui per la prima volta andate al video precedente e trovate la spiegazione delle parti multicolore in questo tutorial realizzeremo la forma del collè plastron la andremo a texturizzare, a colorare con le porporene e la andremo a cuocere su una forma curva tutto questo in maniera molto molto semplice prima di realizzare questa collana mi ero preparata uno schizzo su carta quindi mi ero fatta un'idea già delle forme che dovevo andare a tagliare se volete prendere degli spunti creativi per questo tipo di collane andate su Pinterest, digitate nella casella di ricerca collier plastron e vedrete che usciranno fuori tantissimi esempi da cui potrete prendere spunto per realizzare il vostro design adesso sto andando a texturizzare la prima parte del mio collier sto utilizzando un timbro di gomma morbido e come vedete non si attacca per niente sulla papas clay che vi dicevo anche nel video precedente non è per niente appiccicosa e quindi non è necessario neanche bagnare gli stampi bagnare i timbri quando si vanno a passare su questo tipo di pasta dopo aver passato il timbro il bordo sarà diventato un pochino irregolare è sufficiente rifilarlo leggermente con il cutter di precisione e torneremo ad avere una forma bella pulita adesso inizierò a preparare la parte decorata con la tecnica mokumegane che sarà un inserto sovrapposto a questa parte del collier quindi stendo un'altra sfoglia di pasta polimerica viola e vado a mettere sopra una parte dei miei ritagli li sistemo e poi ritaglio di nuovo la forma la papas clay che vi ho presentato in parte nel video precedente è un nuovo brand di paste polimeriche ma è un'azienda che è sul mercato da più di 30 anni solamente che producevano altri tipi di paste modellabili e hanno fatto queste paste polimeriche di 16 colorazioni finora per farle uscire proprio sul mercato europeo e infatti proprio in questi giorni sono disponibili anche su Amazon e magari vi lascio il link nell'info box sia di questo video che del video precedente per quello che ho potuto vedere questo tipo di pasta è stata testata principalmente con la modellazione io invece avevo intenzione di provarla con tutta un'altra serie di tecniche tipiche appunto delle paste polimeriche per vedere qual è la riuscita con queste altre tecniche se avete domande o curiosità su questa pasta se avete voglia di suggerirmi delle tecniche da provare scrivetelo nei commenti un'altra cosa che vi ho detto anche nell'altro video è che al tatto è una pasta molto setosa si scalda facilmente tra le mani e si condiziona facilmente dopo averla scaldata va passata nella macchina della pasta possibilmente dopo averla tenuta per un paio di minuti tra i palmi delle mani e in questo modo non si sgretola con la stessa velocità con cui viene condizionata torna però al suo stadio iniziale e quindi di precondizionamento quindi se voi lasciate la pasta da parte per un quarto d'ora o da un quarto d'ora in su dopo se la volete ancora bella elastica e morbida dovete scaldarla di nuovo per aiutarvi se non avete le mani particolarmente calde vi consiglio di utilizzare semplicemente il phon oppure in inverno il calore del termosifone adesso ho messo della purpurina dorata sul mio piano di lavoro e con il dito sono andata a distribuirla sulla sfoglia che avevo texturizzato con il mio timbro poi vado a sovrapporre la parte decorata con la tecnica mukumegane e in questo modo avrò quasi completato la prima metà della mia collana manca semplicemente il foro superiore in modo da poter poi applicare la catena la particolarità di questa collana è che la chiusura sarà la collana stessa e quindi dopo una prima cottura andrò a inserire un'asola su questa parte più grande e nell'altra parte invece inserirò un bottone per ottenere una forma bombata vi consiglio di utilizzare una ciotola in acciaio in questo caso utilizzo quella dell'IKEA e questo tipo di ciotole possono andare tranquillamente in forno senza rischio di rottura vi ricordo che sui pacchetti di questa pasta polimerica c'è scritto che è quasi in forno per 130 gradi per solamente un quarto d'ora io personalmente la metto a 125 gradi perché il mio forno scalda un pochino più del dovuto e la lascio per 20-25 minuti perché in realtà in genere vado a inserire le lavorazioni a forno freddo quindi c'è sempre bisogno di quei 7-8 minuti in più per il prediscaldamento poi avevo timore che questa pasta non mantenesse le sue doti di elasticità andandola a cuocere due volte che è il procedimento necessario per realizzare questo tipo di collier invece come vedrete alla fine del video ho potuto notare che anche cuocendola due volte come avrei fatto tradizionalmente con le paste polimeriche non vengono alterate più di tanto le doti di elasticità e non vengono alterati i colori semplicemente il viola come vi avevo anticipato nel video precedente diventa leggermente più tendente al colore melanzana quindi un pochino meno freddo rispetto a quello del panetto originale per me non è un gran danno nel senso che mi piace anche molto il punto di viola che viene fuori una volta finita la cottura però vi consiglio un po' come si fa con la tecnica degli acquerelli di prepararvi dei pallini di pasta polimerica da cuocere da poter tenere su un campionario così potrete avere a portata di mano qual è il colore della pasta polimerica già cotta e questo è un consiglio che in genere si osserva un po' per tutte le paste polimeriche perché anche alcuni colori di fimo di cernit e di sculpei cambiano leggermente dopo la cottura quindi se avete necessità di lavorare con delle palette prestabilite che devono essere molto molto precise fate questo esercizio in più adesso sulla parte più piccola della collana sono andata a creare un bottone con un piccolo rialzo perché al di sotto poi farò incastrare il mio laccetto di cotone e anche quest'altro pezzettino lo vado a cuocere sulla mia insalatiera d'acciaio come vedete questi sono i pezzi che sono usciti dopo una prima cottura sono abbastanza sottili io li ho stesi con lo spessore intermedio tendente quasi a quello più grande della macchina della pasta e rimangono molto molto flessibili si possono piegare completamente la parte più rigida è quella dove c'è la decorazione mucumegane che le aggiunge ancora più spessore quindi ovviamente la flessibilità dipende anche dallo spessore che si va ad utilizzare adesso devo andare a inserire due cordini di cotone che creeranno la mia asola che si andrà a bloccare sull'altra parte della collana in questo caso essendo che la pasta è molto poco adesiva non sono riuscita a bloccare i due cordini semplicemente pressando sopra l'altra sfoglia di pasta polimerica perché continuavano a sfuggirmi ma ho dovuto utilizzare appena un pochino di colla a caldo mi è servita soltanto e semplicemente per tenere uniti i due cordini di cotone e per tenerli attaccati in un punto preciso della prima parte della mia collana già cotta qui vedete avevo fatto un primo tentativo senza usare la colla e poi ho fatto un secondo tentativo usando appena appena una goccia di colla a caldo con questo piccolo trucchetto della colla a caldo i miei cordini non si sono più spostati e ho potuto rivestire completamente il retro della mia collana e questa è una lavorazione che faccio molto spesso sia nei ciondoli che nelle collane plastron perché secondo me rifinisce molto di più la lavorazione e intendo proprio il rivestimento texturizzato sul retro di questo tipo di creazioni lo avrei fatto anche se non ci fosse stata l'asola proprio perché è il mio modo di lavorare quindi sono andata a far aderire la mia sfoglia e ho premuto con questo giatto rosa che in realtà è una spugna che ho preso da Tiger è una spugna dura perché si ammorbidisce soltanto dopo averla bagnata però a me interessava che rimanesse dura e l'avevo comprata perché mi piaceva la trama che aveva e volevo proprio imprimerla sulle paste polimeriche vi capiterà lavorando le paste polimeriche che inizierete anche a guardarvi intorno nei negozi di casalinghi o nelle stesse cose che avete in giro per casa per vedere se ci sia qualcosa che possa fare da texture nel mio caso l'occhio è andato proprio su questo tipo di spugna sempre per il fatto che questa pasta non è appiccicosa non aderisce come le altre paste sul retro della creazione non aderisce in tempi velocissimi ma dovrete avere un pochino più di pazienza per rivestire il retro delle creazioni però con la giusta attenzione si riesce a fare tutto quanto la pasta in eccesso l'ho rimossa prima strappandola via dal bordo e poi ho fatto un lavoro di maggior precisione con il cutter successivamente dopo la seconda cottura potete anche andare a carteggiare ulteriormente il bordo se sentite che è rimasta qualche irregolarità altrimenti prima della cottura il mio consiglio è quello di smussare tutto quanto il bordo con i polpastrelli e con il calore dei polpastrelli si riesce ad avere un bordo stondato che poi non dà fastidio sulla pelle una volta che si va a indossare la collana ora non lo vedrete nelle immagini ma per un discorso di omogeneità ho realizzato lo stesso rivestimento anche sulla parte più piccola della mia collana poi le ho di nuovo posizionate sulla ciotola d'acciaio ma senza fare pressione perché altrimenti avrei allisciato tutta la parte che avevo texturizzato sul retro le ho solo appoggiate in modo che rimanessero comunque in una posizione curva durante il riscaldamento della cottura e le ho cotte per una seconda volta a 15 minuti a 125 gradi quindi in ogni caso ho comunque dimezzato i tempi di cottura perché anche le paste polimeriche tradizionali le avrei cotte in due tempi quello che succede normalmente con le paste polimeriche è che si possono rimettere in forno tutte le volte che si vuole perché dopo una prima polimerizzazione la loro composizione non cambia più quindi non c'è il rischio di bruciarle nel tenerle più tempo in forno ma in genere il rischio c'è se si mette una temperatura molto alta non sapevo se la stessa regola fosse valida anche per quest'altra pasta polimerica e devo dire che almeno per due cotture continua ad andare bene e continua a mantenere inalterate le sue proprietà ovviamente parlando sempre di questo tipo di spessori già che ci sono visto che ne stavo parlando con una delle ragazze del mio gruppo facebook Archidee community vi dico di fare bene attenzione al fornetto che andrete a utilizzare perché se il fornetto non è ventilato il calore non si distribuirà in modo omogeneo in tutto il forno e quindi vi converrà anche non mettere la vostra creazione troppo attaccata alla resistenza che normalmente è nella parte bassa del forno perché altrimenti lì avrete una temperatura molto superiore che potrebbe andare a bruciare le vostre creazioni quindi mi raccomando attenzione attenzione in cottura adesso sto andando a lucidare la mia collana perché è mia abitudine lucidare con la vernice tutti quanti i miei gioielli e sto utilizzando la vernice della Cleopatra che ho preso da Perles & Co la utilizzo da diversi anni non mi ha dato mai particolari problemi e reagisce bene con tutte le altre paste polimeriche l'avevo utilizzata in realtà anche per le perle del tutorial precedente ma avevo dimenticato di farlo vedere nelle riprese quindi ve lo faccio vedere ora è molto comoda perché direttamente dalla confezione se ne può versare un pochino sulla creazione e poi si può andare a stendere con un pennello per le vernici utilizzate sempre pennelli a setole molto morbide così non si vedranno le pennellate anche se è vero che molto dipende anche dal tipo di vernice questo tipo di pasta è abbastanza porosa e setosa al tatto quindi su questo tipo di pasta prendono bene le pitture con tutti i colori e prende bene anche la vernice trasparente che quindi non tenderà affatto a spellicolarsi come avviene quando le paste sono troppo grasse perché in alcune delle altre paste a volte è presente una componente oleosa che può facilitare invece il distacco della vernice con questo non voglio dire che è meglio avere una pasta più setosa rispetto a una pasta più lissa ma ogni tipo di pasta può essere utilizzata in modo diverso e può essere valorizzata in modo diverso l'importante è conoscere tutte le caratteristiche delle paste per poterle sfruttare a nostro favore e per non essere colti di sorpresa quando si va a progettare un gioiello o qualsiasi cosa fatta a mano se noi sappiamo già con cosa abbiamo a che fare se l'abbiamo già provato se abbiamo visto dei test possiamo utilizzare tutti i prodotti senza andarle a sprecare neanche un pezzettino dopo la verniciatura ho fatto delle prove nel piegare la mia creazione volevo anche vedere se si sarebbe staccata la vernice una volta piegata la collana ma non è successo assolutamente niente e nel caso di queste collane molto grandi davvero più confortevole il fatto che siano leggermente morbide una volta indossate allora se il tutorial vi è piaciuto se avete apprezzato anche questo mio lavoro e volete che continui ancora con altri tutorial sulle paste polimeriche mi raccomando mettete like e condividetelo sui social io ho ancora da pubblicare qualcosina sulle resine però voglio tornare a lavorare molto anche con le paste polimeriche specialmente in questo periodo in cui non sono vincolata con nessun altro impegno proprio per questo motivo ho anche riattivato i corsi nel mio studio sulle paste polimeriche e andateli a guardare sul mio sito iscrivetevi al canale sostenetemi con i vostri commenti e sostenetemi anche su facebook e su instagram io adesso vi saluto e ci vediamo presto con il prossimo video ciao ciao ciao